Siamo a Niscemi, splendida vittoria per il Megara Augusta, nuova Niscemi Megara 0-3, Megara ben messo in campo, però un buon mister di solito riesce a trovare anche i difetti su una partita vinta per 0-3. No, vabbè dai, stasera non c'erano molte cose da vedere, c'è stata una buona reazione della squadra, abbiamo lavorato in settimana appunto per avere un approccio più deciso sulla gara e ci siamo riusciti. Abbiamo rischiato pochissimo, si è visto, e poi con esperienza e con in attesa l'abbiamo beccati due o tre volte in modo semplice. E dove arriva questo Megara? Ma nel momento arriviamo ad Augusta? No, scherzo. Diciamo che abbiamo molte ispirazioni, vorremmo andare più in alto possibile. Ricordiamo che c'è ancora una partita probabilmente da disputare perché non omologata, no? Ma anche lì siamo abbastanza fiduciosi perché l'errore non è il nostro e abbiamo fatto reclamo e quindi la Lega potrebbe con un reclamo supplementare dell'albitro ridarci quello che abbiamo guadagnato in campo. Per adesso è tutto, Nico Cirillo, Rassegna Metropolitana, grazie e annunzio di Cobella. Grazie a voi. Grazie a voi.